... Mercoledì 26 giugno, Santi Giovanni e Paolo Martiri. È il 178esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 188 al termine. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 21.03. La luna si leva a mezzanotte 5 minuti e tramonta alle 10.08. Buonaventura di Peraga assassinato a Roma nel 1385, a opera dei Sicari del Signore di Padova. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, di pomeriggio localmente a tratti nuvoloso, con qualche pioggia più probabilmente su rilievi e zone limitrofe. Temperature in aumento. émни Common No 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 Grazie a tutti.